Buonasera a tutti, sono Giuliano Razzoli. Vi parlo a nome della Proloco di Villa Minozzo. In questi giorni stiamo facendo una raccolta fondi per destinare all'ospedale di Reggio Emilia, nel reparto di rianimazione e all'ospedale di Castelnuovo Monti per il pronto soccorso. Vi invito a partecipare perché in questo periodo difficile per tutti noi c'è bisogno dell'aiuto e della partecipazione di tutti. Quindi cercate di fare il vostro meglio. La nostra montagna e la nostra provincia ha bisogno di tutti noi. Quindi state a casa ma date una mano. Vi ringrazio. Buonasera a tutti.